Due rapine nell'arco di appena tre mesi. In entrambi i casi furono colpite filiali cittadine della Banca Sant'Angelo. A distanza di 15 anni da quei fatti concentrati nel periodo tra aprile e luglio del 2008, a processone rispondono le presunte menti i cugini catanesi Sebastiano Tasco e Maria Rosa Tasco e ancora Marco Rapisarda, che secondo la procura avrebbe partecipato all'irruzione di luglio. Molti coinvolti nel giro di rapine hanno definito le posizioni nel corso del tempo su decisioni di altre autorità giudiziarie davanti al collegio penale del tribunale presieduto del giudice Marica Marino è arrivato uno stralcio di un procedimento penale assai vasto frutto di un'indagine condotta dagli inquirenti catanesi e che portò ad individuare una vera banda ben organizzata in grado di mettere a segno un centinaio di rapine quasi tutte in istituti di credito della Sicilia orientale. La base logistica pare fosse nel quartiere Etneo San Leone. I due Tasco, secondo quanto ha spiegato uno dei poliziotti che si occupò dell'inchiesta, avrebbero assoldato soprattutto minorenni spesso incensurati. I rapinatori agivano anche a volto scoperto e i Tasco in molti casi monitoravano con una loro presenza nella zona scelta per colpire. Sebastiano Tasco conosceva bene il territorio e le strade locali anche perché lavorava come ambulante nei mercati, così ha detto il poliziotto sentito nel corso del dibattimento. Nel caso della rapina di luglio, solo tre ore prima del colpo a Gela, c'era stato un tentativo di rapina in una banca a Canicatti che non riuscì. Per gli investigatori nell'azione di luglio nella filiale locale della banca Sant'Angelo sarebbe entrato anche Marco Rapisarda sulla base di quanto appurato alle indagini e ai sistemi terni e della videosorveglianza. Il poliziotto ha risposto alle domande del PM Gaetano Scuderi a quelle di uno dei difensori, l'avvocato Salvo Macri. Il legale ha chiesto maggiori dettagli sulla possibile identificazione di Rapisarda mettendo in dubbio che possano esserci riscontri diretti. Nel corso dell'esame è stato spiegato che gli imputati venivano sottoposti a controlli costanti attraverso il monitoraggio dei contatti telefonici, furono sottoposti ad intercettazioni e gli inquirenti man mano riuscirono a ricostruire le basi della banda delle rapine in banca. Altri testimoni saranno sentiti nel corso della prossima udienza.